Salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti al vostro studio, siamo tornati qui nuovamente su un nuovo video dedicato a Clash Royale Sì signori, sto facendo molti più video su Clash Royale perché ragazzi, non ci sono giochi che a me interessano momentaneamente portare sul canale Quindi tutto quello che riguarda le altre console che a me piacciono, momentaneamente è in stand-by Voglio portare anche il Pokémon, speriamo di poter riuscire a fare anche le live direttamente di spacchettamento Ma per questo, stay tuned Come sempre, prima di iniziare, pollicione in su, commentino, condivisione se vi va e iscrizione se non siete iscritti Perché signori, oggi, come già avete letto dal titolo, se già non l'ho detto, oggi andiamo a farci, bensì, eccola qui E' elettrico, perché l'avete visto E ho fatto questo mazzo, che ve lo faccio vedere Signori, non è il massimo, eh Però posso dirvi che le due sconfitte che ho fatto non le ho fatte con questo mazzo Scusate, il gioco di parole, il fatto Però, devo dirvi che funziona abbastanza bene Se dovessi perdere tra queste due vittorie, che dovrei ancora fare Se dovessi perdere un'altra partita, signori, vi riporto nuovamente qui con questo mazzo O con qualche modifica Signori, basta con le chiacchiere e andiamo ad avviarci Anzi, aspetta un attimino, non so signori se qua prende Comunque, andiamo dritti per dritti con la fuoriregge Nella speranza che prenda Perché, signori, questa è un pochettino complicata, eh Mi sono scordato di mettere il Wi-Fi Allora, avete visto che c'ho il mio gigantozzo elettrico Perché è una carta che volevo effettivamente utilizzare E adesso me lo vado a piazzare Perché ce l'abbiamo, lo utilizziamo, no? Ed ecco qui, signori, il problema Il problema iniziale è proprio questo Il fattore di non avere la linea buona Che ci permetta di fare danno all'avversario Ma ben sì, ce lo fa lui a noi Ok, va bene Abbiamo subito un pochino Andiamo da tutti e due lati E... vediamo Non abbiamo la... la strega, eh Non abbiamo la strega Però lui ha sprecato un bel po' di elisir Con quella fireball Ora, poi un attimino stacco e rientro nuovamente Ok, ok, dai, dai, dai Lo buttiamo giù, lo buttiamo giù, signori Lo buttiamo giù Cioè, mi allontano un attimino, signori Perché devo mettere il Wi-Fi Però se va bene Io continuerei anche così Allora Tutto sta nell'aspettare la mongolfiera Ho visto molti mazzi, effettivamente, con la mongolfiera E devo dirvi Devo dirvi che effettivamente ci sta No, eh Però, con questo tipo di mazzo Io mi sono difeso abbastanza bene Io mi sono difeso abbastanza Oh, no, sbagliato Ah, sbagliato Barilozzo Sbagliato Barilozzo Non dovevo lanciarlo qui, signori Non dovevo lanciarlo qui Ma ci sta Ci sta Magari se mi toglie Eh, ok Se mi toglieva lui Lo stregonozzo Ok Purtroppo non c'ho niente Io ho poco Dai, 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 dai Ok, va bene, va bene Va bene Mi sta bene, mi sta bene Signori, che comunque Lui ho il livello bassino, eh Lui ho il livello bassino Però le carte sembrerebbe Avercele buone Di livello giusto Ok, abbiamo danni in entrambe le torri, eh Quindi ci può anche stare Ci può anche stare E facciamo così Tacchete e tacchete Uno e due Allora Non mi posso lamentare per il fattore del Del Wi-Fi Anzi Devo essere sincero Devo essere abbastanza Oh, bella Vedete, il gigante È abbastanza buono anche Contro Gli scheletrozi Che vengono utilizzati abbastanza Vai, va, va bene Va bene, va bene Va bene Difendiamoci col gigante Ok E anche con la cage E barilozzo Signori Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Buona, buona partita Allora Visto che comunque sta prendendo Io direi di continuare Perché, signori Voglio fare dei video un pochino più veloci Non Perdere troppissimo tempo Così, eh Benissimo Benissimo Prendiamoci sti 2000 gold Ok, adesso ci manca L'ultima vittoria Per arrivare al Waule leggendario Non so se effettivamente Ho qua letto Che se perdiamo Dobbiamo partire dall'inizio Secondo me comunque Questo mazzo Voglio fare una piccola Clausula Quello che può un pochino Dargli fastidio Sono gli estrattori di Erisir Perché, come vedete Non abbiamo nulla Che attacchi direttamente O comunque le strutture Anche quelle Possono dare un po' di fastidio Ma non troppo Io penso proprio Che l'estrattore Qualcosina Ma non abbiamo Io ancora non ne ho incontrato Eh Però fatemi sapere voi Cosa ne pensate di questo mazzo Sempre commentino E io vi rispondo Dai, startiamo L'altra partita Ed eccoci qua Contro un iraniano Bene, 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 bene Allora Avremmo Avremmo la possibilità Di partire Col gigantozzo E io Ci sto Ci sto col gigantozzo Ci sto Vediamo lui come risponde Ovviamente Lui sta attendendo Non so Ok Noi stiamo comunque Macinando nuovamente L'elisir Dai Ok Lui va dall'altro lato Non so per qual motivo Ma Secondo me ci può stare Ci può stare Ok Sì Sì Non mi colpire bene 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 Non mi ha colpito la centrale Però Questo pescatore Ci dà un pochino di fastidio La strega La strega La strega Fa un po' di danno La strega fa un po' di danno E noi andiamo di pipistrellozzi Vediamo se ce la facciamo Ha uccidolo prima Mi ha dato un colpetto Ah Questa è brutta Questa è brutta Questa è brutta Questa è brutta Mettiamo la cage così Gli do un pochino di fastidio E non mi colpisce Ok Non mi ha colpito almeno La torre Ok Benissimo Grande Goblin Un hit me la dai? Anche due? Anche due Mamma mia signori miei Mamma mia signori miei Anche due Anche due Anche due Dobbiamo per forza Andare con i pipistelli Per forza Per forza Per forza Per forza Lui ha La strega madre Che mi dà Tanto tanto fastidio Però Quasi 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 Ci sta Quasi quasi ci sta Signori Quasi quasi ci sta Grande fuorilegge Una delle mie carte preferite Insieme alla riete Da battaglia E quindi ci sta Ci sta Ora Abbiamo il per due Visto che abbiamo fatto Un bel po' di danni Nella torre Destra Andiamo qua Di Goblins Vai Ok ok Va bene va bene Che mi ha consumato La Terremoto Ok Andiamo dritti Per dritti So che Spunteranno Tantissimi Maialozzi Ma io Vado a mettere Questa Quindi Dai qualche danno Dai qualche danno Dai Ok Sì 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 Dai Buttamelo giù Sì Grande Ora Difendiamo Cerchiamo di difendere Cerchiamo di difendere al massimo 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 Se ce la facciamo Dieci secondi Signori Dieci secondi Dieci secondi Dai 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 Mettilo davanti No 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 Non va bene Non va bene signori Non va bene proprio all'ultimo Però abbiamo il gigante Che va a torre Abbiamo il gigante Che va a torre Vai Distruggimi Sì 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 Me l'ha distrutta Mi ha distrutto la La strega Strega madre Mi ha distrutto la strega madre Mi ha distrutto la strega madre Ora Se lui mi ha messo la Quello Io posso andare anche Così Visto che mi ha distrutto quello Attenzione Eh questi sono Sono ostici Sono ostici Però forse qualche dannozzo No Non me lo arrivo a fare Non me lo arrivo a fare Peccato Non me lo arrivo a fare Devo cercare di Di riprendermi eh Devo cercare di riprendermi Ok Attenzione Cage davanti Vediamo se lo spostiamo leggermente No Non riusciamo a spostarlo E questa è brutta eh Perché non sono riuscito a mettere la cage Non sono riuscito a mettere la cage Vai strega madre Che mi colpisce prima lui Dai strega madre Che mi colpisce prima lui Dai eh Dai eh Mettiamo qua la cage Per sicurezza Eh però c'ho questa strega madre Che mi da troppo fastidio Signori Strega madre Che mi da troppo fastidio Oh guarda da quel lato Guarda da quel lato Guarda da quel lato Guarda da quel lato Eh mi sa tanto che non ce la facciamo per poco Guarda per quanto Mettiamo nuovamente la cage Dai eh Dai eh gigante No Guarda per quanto signori miei Guarda per quanto Guarda per quanto non ci arriviamo Guarda per quanto non ci arriviamo Peccato Peccato Guarda per quanto No Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Signori Ce l'abbiamo fatta Con lo spareggio 56 Mamma mia Mamma mia Mamma mia signori Questa è stata combattuta Signori Se non avete lasciato il like adesso Dovete Obbligatoriamente Lasciarlo Signori due partite Stupende L'ultima l'abbiamo fatta Alla grandissima E trema E trema quel baule leggendario Perché deve tremare Vediamo cosa troviamo Ah un jolly Un jolly Onesto Onesto Preferisco il jolly Che altro Perché ogni volta ragazzi Che abbiamo vinto le battaglie Quella del clan Mi dà carte Ovviamente che non mi servono Allora devo dire che Risente moltissimo Abbiamo visto la strega madre Però se riusciamo ad attaccare Abbastanza bene Non è malaccio Perché certo Abbiamo i pipistrelli Che aiutano tantissimo la strega E anche La stessa strega nostra Normale Quella madre Che gli dà un supporto Comunque Sempre io vi invito A entrare Nell'off team Momentalmente siamo pieni Però vedete che noi Siamo abbastanza Attivi e forti Al momento siamo Al primo posto E signori Ditemi cosa ne pensate Di questo mazzo Io l'ho provato Secondo me Da quando l'ho azionato È fantastico Per il resto Do la parola a voi Fatemi sapere signori E come sempre Io vi do un saluto L'offo Mi raccomando Supportate il canale E ci vediamo alla prossima Ciao Grazie a tutti